ah beh, in molti mi avete mandato queste foto di Brandon Curry chiaramente per le gambe, non tanto per Brandon in sé che chiaramente è mostruoso, come sempre ha delle bellissime forme, rotunità muscolari quindi dirò un po' la mia, poi ognuno dirà la propria contando sempre che bisogna aspettare di vedere il bodybuilder sul palco e poi ieri Fuadabiada ha postato un'intervista a Brandon e devo dire che per quanto sia bravo come persona, diciamo Brandon è anche molto umile nel vero senso della parola, secondo me a volte rischia di essere quasi noioso perché essendo così bravo non si sbilancia, non crea polemiche eccetera 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 quindi secondo me dovrebbe sbilanciarsi un po' di più ogni tanto e questa è una delle foto, non capisco perché abbia postato delle foto così da lontano cioè non ne vedo il senso molto sinceramente e a me stupisce sinceramente che la gente possa pensare che in 4 mesi, 5 mesi dall'Olimpia ci possono essere dei cambiamenti radicali e repentini alle gambe sì, in questa foto le gambe sembrano un po' più grosse però è sempre una foto su Instagram adesso non mi metterò a parlare della posa in sé perché chiaramente è una bella posa, bellissimi addominali dei dorsali, bello tutto però parliamo delle gambe dicevo, mi sembra difficile pensare che un bodybuilder in pochi mesi possa ovviare a un problema che si porta dietro da anni perché come ho detto tante volte dubito che stia lì in Kuwait, lontano dalla famiglia per molti mesi all'anno a fare solo leg extension e cyclette e poi altri hanno detto ma guarda che Mark Max Masso l'ha fatto il video di confronto tra il 2020 e il 2021 oppure sì ma guarda che il 2021 aveva le gambe più grosse bla 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 se vi ricorderete avevo fatto un video un bel po' di tempo fa, secondo me più di anni fa e avevo detto questa era la mia supposizione all'epoca secondo me Brandon per battere rami deve arrivare un po' meno definito per mantenere un po' più di densità e massa nelle gambe poi successivamente in seguito a questa mia pseudo previsione Brandon fece un video dove disse per l'appunto queste cose per battere rami arriverò un po' meno definito perché chiaramente per battere filito nel 2020 il discorso era arrivo più definito perché filo devo battere con la definizione per battere rami che non è un mostro di definizione e chi ha delle gambe enormi gli serviva essere un po' meno definito avere più massa nelle gambe quindi così ha fatto nel 2021 quindi in conclusione pur essendo una foto su Instagram contando che si deve aspettare il palco e purché ci sono state secondo alcune persone ci sono stati miglioramenti nelle gambe 2021 a me sembra molto difficile che un problema che si porta dietro da così tanto tempo e che non riesce a migliorare perché magari non è portato geneticamente per le gambe possa essere risolto mi sembra molto difficile però a me Brandon come bodybuilder piace l'ho detto miliardi di volte un bodybuilder con l'asterisco secondo me se avesse le gambe batterebbe Bigrami tranquillamente a me Bigrami non piace molto però vedremo spero di sbagliarmi spero che davvero abbia trovato un modo per portare le gambe migliori ma non credo penso comunque che vincerà l'Arron Classic però ditemi un po' anche voi che ne pensate questo chiaramente è un video in risposta sia a questi che mi hanno amato le foto che a quelli che hanno detto che le gambe erano superiori nel 2021 buona buona grazie a tutti